Purtroppo in Italia siamo costretti a vivere una nuova emergenza Ed è tornata quella parola che tanto ci fa paura Il lockdown Ma come lo commentano a Bergamo questo momento che stiamo nuovamente passando? A Bergamo non dicono Ci hanno chiuso dentro un'altra volta No, un bergamasco direbbe proprio così Quindi è ancora più ritornata di moda la famosa frase Dovete indossare la mascherina Che un bergamasco direbbe così Ma ciò che ancora più alimenta tensione e rabbia sono i social Tutti che scrivono, tutti che si lamentano, tutti che condividono, tutti che diventano virologi Ed un bergamasco direbbe proprio così Ma sì, popolo, forza e coraggio, tanto andrà tutto bene Se altro che andrà tutto bene Andrà tutto puttane